No, no, ci devi dare un milione e mezzo, 1500 euro, eh, 15, no, no, 15, 200 euro ci devi dare, hai capito? No, 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 ildeset, 200 euro ci devi dare, hai capito? E quando sto? prendi tutti i soldi, quando si fai un po' troppo tra i soldi tra i soldi no no ma e facciamo una cosa allora come l'inverno no? tanti succiti a certi coro se tu vieni vado a fare i soldi, ci porto i soldi e noi vi riprendiamo il nido hai capito? io ho scontro la cosa sento se sei come l'inverno non ti mi mi compresti mamma mia eh l'ho trovato quello che ti è rimasto poi oggi ci porto il soldo e me lo ripeto indietro se no per te i 500 se no per te i 500 ho dato in acconto hai capito? grazie grazie